Abbiamo visto da 50 anni che era di una specie ancora conosciuta e quindi hanno pensato, bene tra virgolette sono qua, hanno pensato di dare questo nome e intitolarlo questo Nell'Octobus a Greta Thunberg perché, ha detto lo studioso, sono immensamente impressionato dal lavoro di questa giovane attivista e volevo riconoscere il suo notevole contributo nel far crescere la consapevolezza sui temi ambientali ma pensate, lei fa pure un insetto a suo nome, chi è che ce l'ha a pochi altri, altri insettatori in genere? Questa è la sua, how do you sleep? Grazie a tutti Grazie a tutti